Rampelli, il primo gol ufficiale della nuova stagione della Berretti, anche il primo gol di abbruscato da Aldenatore, quindi in ogni caso sarà ricordato questo gol? Sì, sì, è stato un gol secondo me molto importante sia per la squadra che anche per me e spero che sia il primo di tanti. Ti sei trovato in porta da una conclusione di Fiorindi che è diventata un assist? Sì, praticamente sì, ho approfittato del tiro non perfetto del mio compagno, ho stoppato, mi sono ritrovato contro il portiere e ho approfittato. Bene, e poi dopo nel secondo tempo la partita sembrava chiusa, invece inizia il secondo tempo, il rigore, poi siete andati in vantaggio, lì si mette un po' la paura perché la lupa ha avuto qualche occasione. Sì, lì abbiamo abbassato un po' troppo la guardia, anche secondo me sono stati molti errori singoli, però l'importante alla fine nel calcio è portare il risultato a casa. Insomma, questi tre punti sono molto importanti. Com'è Elvis come allenatore e avere un giocatore che è arrivato a livelli importanti? All'inizio fa un certo effetto, poi conoscendolo si scopre che è una persona ad oro. Mister bravissimo e spero che non sia il primo e ultimo anno che mi allena. All'inizio fa un certo effetto.